Per me piace il teatro. Lavorare, il tempo passeggio, è sempre passato il tempo, ci sta, non ancora, non è chiuso. Questa è adesso lavorare, quando torno lavoro, il tempo passeggio, il tempo passato. Ora io penso che questo teatro, sei mesi fa, si dice buono condotto, penso io, ora io, tutti gli infermati, per il nome mio, per sentire il tempo, un buono condotto, perché ho questo calciro. Lo sapevo, potevo fare tutto il... Io non vengo, non sai bene, per il buono condotto, io interessa qui se non ho i soldi, però il buono condotto, cercare il buono condotto. Lo vuoi fare ancora il teatro? Vediamo, quanti altri arrivo, però sempre ripresento, se tu ci stai, sì. La stanza è più bella in Coppia, perché in Coppia c'è quando lo giro. Questo, questo calcio è per amici, parliamo, giocare, tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme, tutti uguali, non è così. Grazie. 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 Grazie.